Certo io non posso fare perché non riesco più a trovare il tempo occupandomi di queste cose ma quanto prima queste cose vanno fatte e così l'ho provato il Consorzio di Monitica che a suo volto si è trovata sempre senza sole certo quanto meno quanto la zona di Tenta Rosso e che dice un somco non fosse completamente potente la zona Cipodera che ci passa un fiume diciamo un fiume, un torrente il torrente Cipodera era sottoposta alla provincia speriamo che si faccia qualcosa tale che ci sia una possibilità e comunque e l'abbiamo più o meno individuata abbiamo fatto una ricondizione del territorio per come intervenire questa è per la frazione Corazzo Corazzo non è che ci fermiamo vogliamo realizzare un mercatino del Contodino un mercatino provvigiano vogliamo fare qualche altra cosa e poi man mano vediamo che si fa anche per esempio l'indicazione che ci ha dato Renzi per quanto riguarda l'individuazione di una scuola io ho dato la scuola della frazione Corazzo chiuso questa parentesi poi voglio ritornare un po' sugli affari sociali un po' avevo accennato qualcosa comunque abbiamo messo a posto alcune persone che erano in situazioni disagiate attraverso l'ATREP abbiamo messo in condizione alcune persone con tutte le difficoltà di questo mondo a qualche cosa quindi l'abbiamo fatta anche questo sono dei piccoli interventi a livello sociale e poi oltre l'ATREP abbiamo cercato di salvare anche il nostro istituto scolastico l'anno scorso c'è stato un grande impegno per lasciare l'istituto comprensivo per salvare perché voi sapete i ragazzi diminuiscono giorno per giorno e quindi c'è il rischio della chiusura di chiusura quindi dell'istituto comprensivo ma il problema maggiore era quello della frazione Corazzo l'abbiamo salvato l'anno scorso attraverso una ludoteca poiché c'era gente che veniva da fuori e desiderava il tempo prolungato oggi non so se ci sono le condizioni di fare questo perché non abbiamo la disponibilità finanziaria non riusciamo tuttavia ci abbiamo messo tutti l'impegno più che ritornasse la scuola abbiamo realizzato dei riscaldamenti al gas in modo tale che si risparmia qualcosa sia per le scuole grandi cittadini sia per la scuola di potere bandiera e così via abbiamo risolto il discorso del cimitero chiaramente non ce l'abbiamo fatto con i fondi per raccordarlo con il vecchio cimitero poiché i soldi raccolti nel passato era una cifra oggi a distanza di anni ce ne vuole quasi doppia ma io e l'amministrazione comunale abbiamo detto che questo cimitero lo vogliamo completare speriamo che ci riusciamo comunque la parte è finita vediamo come ci organizzeremo naturalmente tutto questo dipende dai dipendenti in quanto ci saranno più dipendenti perché un solo giovane non ce l'ha e c'è tutta la regione e quindi gli integrati li possiamo mettere di sofferenza quindi è giusto che ci vuole un po' di tempo e quindi questo è quello che noi disegneriamo abbiamo realizzato a livello culturale una scuola la cosiddetta SPEF scuola permanente di educazione e formazione attraverso il professore Claudio Prillo una persona molto attenta e di Scandana abita qui e quindi abbiamo organizzato diversi appellimenti in questa sala ci sono state diverse persone persone di alto livello il prefetto in questa sala c'è stato presente il tribunale e tanta gente purtroppo un pochettino o meno di scandale questo mi vuole un po' perché se no così non cresciamo se non facciamo qualcosa che lavoriamo insieme non cresciamo partecipazione poi ecco a me il consiglio comunale mi piace che ci sia la presenza della gente quando non c'è nessuno non si cresce un'altra cosa noi stiamo cercando pure di pensare a organizzare una serie dell'università un elettuno ci stiamo provando attraverso la step non lo so fino a che punto ci possiamo arrivare però comunque abbiamo fatto la convenzione abbiamo i rapporti con Roma e vediamo cosa fare l'anno scorso abbiamo lanciato la questione della raccolta differenziata la raccolta differenziata ha un costo e rispondo pure a qualcuno che dice delle cose è fuori e ha un costo maggiore quindi noi dobbiamo fare sempre i conti col bilancio è vero che facendo una raccolta differenziata il tempo poi si guadagna si di momento l'umido si guadagna qualcosa conferiamo di meno però comunque la raccolta differenziata è una cosa seria non l'ho fatta l'oggi o domani io l'avrei fatta già dall'anno scorso ma non era possibile proprio per la situazione finanziaria quando ho comprato le pinocine ci sono alcuni costi iniziati e poi ha fatto comunque una gara la gara l'abbiamo mandata già due volte questa è la seconda volta e sono passati 7-8 mesi l'ultima l'abbiamo mandata adesso adesso stiamo con la speranza che il signore ce la mandi buona a finché sta gara venga fatta non è colpa mia ma è colpa della burocrazia perché comunque la stazione unica ha parlato in questi ultimi tempi qualche problema ce l'ha la provincia non ci sarà più eccetera quindi qualche problema ci sarà comunque il capitale anche per quanto riguarda la raccolta differenziata è lì io voglio provarci come penso tutta la distrazione perché l'abbiamo pure parlato un pochettino per farla anche dal mese di settembre ma vediamo comunque se ci sono le condizioni io a questo punto concludo perché non voglio neanche arruinare più di tanto la cosa e chiaramente passeremo pure alla parte finanziaria del consultivo perché comunque si parla di debiti e ce l'abbiamo tuttavia questa amministrazione con l'aiuto grande che ci ha fatto anche il nostro contabile ragioniere piano abbiamo una situazione che comunque abbiamo risolto con un mutuo con la cassa di poste e prestiti come diversi comuni hanno risolto questa qui c'è la possibilità di delazionare le cose in tanti anni però c'è anche un disavanzo dell'amministrazione che è intorno a 1.700.000 euro più e mentre invece la situazione dei debitori è sui 2.680.000 quindi tutto questo è problematico per amministrare quindi che se ne dica di lei o di noi questa è la situazione dobbiamo andare avanti questa è un'amministrazione che ha intenzione di risolvere la situazione finanziaria quindi che qualunque politica mi possa arrivare ci possa arrivare noi questo obiettivo vogliamo risolvere il comune da questa grave situazione se non usciamo da questa situazione noi non possiamo crescere come comunità e quindi si creano disagi peggiori io porto la mia voce penso che anche voi la bocchiate e anche la comunità intera ci può dare una mano sotto questo aspetto chiaramente il debattito si aprirà o qualcuno pensa qualche estate che non resta problemi dei comuni ci sono tutti residuativi ci sono tutti i comuni chiaramente bisogna rimboccarsi le mani le polemiche a me non piace non voglio scegliere le polemiche perché se andiamo qui in fondo poi tante cose vedete che non è inondeziale e allora io vi grido a raccogliere il mio pello affinché l'obiettivo unico sia la risoluzione dei problemi e nient'altro perché le colpe ce le hanno più le colpe non parlano solo dal punto di vista finanziario perché delle volte io penso pure perché nel passato si è fatto tanto i comuni fa bene lo Stato e ci mette dei parenti è inconcepibile che un comune poteva soffrire ogni anno due o tre persone assunzione di qua assunzione di là quindi ci sono state tante cose che hanno proprio fatto in comune questo debito ci sono state tante spese giuste sbagliate non ci vogliono entrare niente tuttavia se vuole entrare io sono sempre il proprio e disponibile al dialogo e al confronto io adesso ci do la parola all'amico dottor Leltrevieni per farci più o meno una corsa generale a loro compagno grazie a tutti